Dal dimenticatoio alla ricerca di un progetto di recupero da costruire e concretizzare. Dopo anni di abbandono e progressivo degrado, la riqualificazione dell'Istituto Postelegrafonici di Villa Marina sul lungomare di Ponente di Pesaro è stata parte integrante del convegno tenutosi questa mattina in provincia dal titolo Il ruolo sociale dell'Inps nel territorio provinciale. Tavola rotonda convocata da CGL Cisle Will per mettere al centro del dibattito la richiesta di nuovi servizi in risposta alle crescenti esigenze sociali di una popolazione in progressivo invecchiamento. Fra i temi anche il patrimonio immobiliare di proprietà dell'Inps da rilanciare, qual è Villa Marina a Pesaro o l'ex convitto Vittoria Colonna di Fano. Temi affrontati alla presenza del direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi, della direttrice Inps Marche Emanuela Zambataro e dell'ex dirigente sindacale pesarese Roberto Ghiselli, oggi presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps. Noi abbiamo diversi immobili, colonia o cose simili che sono da tempo inutilizzate e per noi è l'emergenza di ridare la disponibilità delle comunità a queste strutture. Villa Marina sarà una delle prime su cui l'istituto si sta impegnando a sollecitare una soluzione. Sollecitare intendiamo dire che non dipende tutto da noi, occorre trovare dei partner, occorre trovare come oggi è emersa una disponibilità dell'amministrazione comunale nel favorire questo processo di recupero. Ecco, non ci sono novità particolari che stanno venendo fuori, c'è una macchina che si è remessa veramente in moto. Cioè era un dossier che era abbastanza fermo, invece adesso sia l'istituto che l'amministrazione comunale la stanno prendendo con molto impegno e ci auguriamo che, come diceva anche il direttore generale, in tempi ravvicinati possa essere una soluzione concreta. Lo stesso sindaco di Pesaro Mattioricci alla tavola rotonda esternato come quella di Villa Marina è un'area della città troppo importante per non avere una prospettiva futura. Il Comune vuole abbandonare quella brutta cartolina del lungomare in vista di Pesaro 2024 e quella dei servizi per rispondere alle fasce anziane è una scelta condivisa dall'amministrazione. Fare di Villa Marina un progetto di senior housing con residenze per la terza età risponde infatti a un'esigenza che il Comune già stava bozzando per il contenitore del futuro ospedale San Salvatore all'indomani della nascita del nuovo ospedale di Muraglia. È una struttura anche per destinazione d'uso vincolata che verrà rivolta alla popolazione anziana e saranno quindi una struttura di residenze per gli anziani ma fortemente integrata col territorio con dei servizi aperti alla comunità. C'è un progetto che va costruito, non è già definito, però insieme alla partecipazione di tutti gli attori in qualche modo dare la possibilità alla città di Pesaro di avere un bene che collettivamente e complessivamente ne può utilizzare i vantaggi. Grazie. 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 Grazie.